musica 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 brava, esattamente, come segno di rispetto a quelli più bravi ma già, me l'hai studiato o ho già le fatto? ormai fosse domenica mi sa che ne era nell'altro senso ma poi ne erano tipo figaretta ah, ecco musica si, si mmm se volete provare il tofu so che non vi alletta, però è buono buono molto buono questo è buonissimo questo maialozzo è vero però penso che io devo velocizzare beh direi che vado con io non so fare questo fatto della foglia però no, perché non ti amare non con il resto basta che non ci amare oh vale, buon altro po' di buona buona ma tanto la mangi prova si 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 sono figli delle batterie in una telecamera si si grazie grazie mi passate un po' d'acqua frizzante naturale come è è buono questo qua peccato che non lo riesco a mangiare bene tutto perché potrei devo farire io per il problema bene quando le piante c'è almeno due di me ma io devo questa salita ah si vai un proseguimento grazie quindi siamo noi le merda praticamente si ma ragazzi non lo veloce perché devo dare chi ha organizzato ho un'ottima idea non so chi brava Chiara no solo io eh ragazzi ma nonostante le gomme ci farà sempre no no questo qualcosa che resta eh salita e sta come un pazzo ecco qua veramente giuro eh giustamente c'è ragione devo appagare i conti infatti no rompe i palmi hai preso i soldi di Antonio che hai trascinato a questo ma l'ha scritto solo a te no no ma secondo me sono ironici chi l'ha scritto Luca l'Antonio potrebbe quanto resistiamo all'aspettare che voi stanno aspettando si si ora entrate anche voi due persone prima si 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 grazie bellissimo eh 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 sì da questa parte si esatto prendiamo tutto e duro così assaggiamo tutti va di alcoli ok va bene così bene così facciamo tutti e tre la abbiamo assaggiato tutti e tre lo stesso si si io a me io ho sentito l'odore e mi piace va bene va bene va bene va bene grazie ok qu see come hai bene fordì mm signori a pavella che a lei che fa ho semplice chiedere da serre che ci faria non c'è ne puoi dire bene non c'è non c'è non c'è sembra sapore ma Però non fa niente. Fa abbastanza schifo. Prima? Allora posso dire che mi faccio un po' poco? No, ma piacere è che io voglio andare in Corea, quindi quando ando in Corea saprò cosa non prende, se ora prendo il vino, l'altro vino e non quello latino, perché... E' benissimo. Io li adoro i coreani, io guardo tutti i film coreani, tutte le serie tipi coreani. Tra l'altro guardando le storie, queste storie, ti va a giocare lì. Ha fatto una... Ha fatto una... Ha fatto una... Dal condominio, dal giornale... Se vedi nella cosa, ha subito detto che sono giornalista. Vabbè... Ma adesso... E sto morendo in fronte a me. Buona giornata, thank you. Thank you. Thank you. In che senso. E' il mio idolo, ma vedete che sarà conosciuto tra i ragazzini? Sì, lo chef. Non lo so. Boh. Era... Noi scopriamo che c'era. Noi scopriamo che c'era. Un grande artiste. A me non sapeva che i giornalisti possano... Noi scopriamo che sono tutti... Però è indicativo quella statuetta sul bancone. C'era quello dello chef. Chi sa chi è? Mh. Sul bancone. Qua, qua qua qua. No, no. Ah, siamo... C***o, ho di buona. Ma ciò mi vuole amma. E noi non sappiamo niente. E mi ha fatto dove amma. Io... Per amma. Per amma. Non è più. E lo famoso è questo. Ogni. Vai, sono pronti. crocinati da crcom android. Si, sai, sai. Noi... Però ciò 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 ciò? No. CevatLine eating 4 initially. CevatLine eating 4 gonna? Chater. Cioè, la madre del spatio nell'聼 suo ciò? Frieder. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. UsiChef Sì, sì. Sì Cria Ah, sì, immagini! O? Ha! Essa c'è non c'è? C'è il tenere! O... C'è un tasso. Un tasso. Un tasso. Ho, un tasso. Un tasso. Sì, non soasti. Un tasso. Un tasso. Un tasso. Ok. Un tasso. un pochè qualche cosa non è così questa cosa è successo siamo in Italia 1.5 mani che ciò allora cattolo 4 mani che ciò ok Ok. Il primo è il jayucano. Jayucsampo. No, no, no. Voi, voi, voi. Ecco. Ecco. Ecco, ecco. Buon appetito. Ecco, bucci. Mi dispiace. Non c'è problema. Ecco, bucci. Il riso invece con la verdura, vado, perché vedi. Ma con il motore che è, rimando tutto coso, venga una panna di sangerà. Buonissimo, parlo. Eh? E' bene. Tutto buonissimo. Buon appetito! Tutto buonissimo! Sì, qua pure c'è una carta. La colonna è bella poi quest'olivo, questo critto, mamma mia. Qui in Napoli sta in entrambrazzo. Internazionale, eh? Sì. Sono cose che ti mando dai volontieri, questi. Sì. 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 Sì, non è vero. Quanto sei quel primo al petto? Buongiorno. Il mio ramen è senza un brusco. La salosa mira. È buono. Siamo un pozzo di pudri. È buono. L'unico cazzo che ho preoccupato è questo sfumantino, per noi sarà interessante assaggiarlo adesso. Tu dici? Adesso che hai i sapori? No. Con filmola, con filmola a te. Non c'è nessun po' di dire. Beh, io non mi sono più reale. Cioè io, ora come farò senso ristante coreana a Napoli? Non c'è tanto, non è tanto la pubblicità che... Ma non c'è tanto. Ma vediamo se ci sono chiesti. Ma poi, come al solito, per i copori. La mia maniera da fare da fare la macchina che si può. La mia maniera da fare la macchina che si sono. La mia maniera da fare? Niente. La mia maniera da fare? Il suo corpo di questo? L'unico cazzo? L'unico cazzo. Sì. 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 Sì, si muove, non vedo. Sì, non vedo. Non lo faccio? Non è così, non ho l'apso, non ho inizio. Ah, sì, sì, sì. È un'unico... Non è così, non è il problema non il tempo. Stemina Stemina lo situations Yuli한테 고무줄 좀 달라고 해봐 Yuri, 고무줄 무슨 고무줄? når ر Yok 공不用 세 Audio 아니 고무줄 에는 사실 아니 고무줄 있잖아 아까 그 큰거 고무줄 있잖아 아까 쓰던거 뭐... 네 던져 이게 이거 효과있더라 no si 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 Non ci sono versi? Non ci si fa bene Non so, è ancora più difficile Se è davvero ciò che è divertito L'abbiamo anche molto difficile mi ha fatto Sì Il caardo di bello come fare? Il caardo di bello si Cripa di bello Di bello, siamo a casa Le bello si A fare il cuore di bello Sì, ciò Perfettare il l'avamo. Non c'è un'altro ce cerco? Non c'è anche che la fronte. Ci sono trocola nessuno! Sono proprio, c'è? Non è giusto? Ah, c'è un braio? Ah, perché sono qua? Non c'è più iniziato? Eci come si cuore? La parola è la parola. La parola di farola è tutto da parte. Sì! Ciao! 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 Ah, è vero? Ah... ...che sì! c'è mia ... ... Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. A Wow, wow, wow. Gimminza house. Gimminza se donna te che so, lo che ho hai fatto ovviamente. Oponence la foto tué, io ho fatto un chien mistake. No, in questo senso non sono. . . .